Billi a chiappa paura di Maria Loretta Giraldo con le illustrazioni di Giulia Orecchia edizioni libri. Billi a chiappa paura ha infilato una mano dentro il suo mantello e ha tirato fuori una pipa che ha messo in un angolo della bocca però senza accenderla. Ha rimasto un po' pensieroso e poi ha domandato chi di voi ha paura del buio? Mentre parlava dalla sua pipa spenta uscivano grosse bolle di sapone. Come facesse? Oh proprio non so. Piero ha paura del buio ha risposto Michele cercando di fare scoppiare una grossa bolla che gli stava passando accanto. E anche Alice ha aggiunto la mamma. Vero Alice? Lei ha fatto di sì con la testa. Alice aveva quattro anni ma quando doveva andare in cameretta sua se era buio voleva ancora essere accompagnata. E chi ancora ha paura del buio? Ha insistito Billi. Anch'io qualche volta avevo paura del buio per via dei fantasmi ma mi seccava dirlo perché avevo nove anni e quelle del buio e dei fantasmi mi sembravano delle paure da bambini piccoli. Allora? Ha fatto Billi guardando verso di me. Sembrava che mi avesse letto nel pensiero. Beh ho ammesso io qualche volta di notte mi copro i piedi anche se fa caldo perché ho come l'impressione che qualcuno mi afferri il ditone. Ma Billi ha chiappa paura. Non mi sembrava stupito. ha detto solo adesso sì che i conti mi tornano. Poi si è rivolto ad Alice e ha raccontato una storia. L'orsacchiotto che guardò in faccia il buio. C'era una volta un orsacchiotto che aveva per mamma una bella bambina affettuosa con i capelli ricci e le lentiggini sul naso. Di giorno l'orsacchiotto era allegro e rumoroso però mano a mano che si avvicinava l'ora di andare a letto diventava sempre più triste e silenzioso perché aveva tanta paura del buio. La sua bambina mamma le leggeva un libro oppure gli raccontava una bella storia e poi spegneva la luce. Buonanotte piccino diceva. Ma l'orsacchiotto pensava che la notte non fosse affatto buona. Non vedeva intorno a sé che un orribile nero che cancellava tutte le cose belle del giorno. Dov'era la mamma? E il pinocchio di legno? E il cesto dei giocattoli? E dov'erano finiti? Il buio era così scuro e pauroso e pieno di tante ombre lunghe, nere, strane. E in ogni ombra si nascondevano brutti mostri con i denti aguzzi, gli artigli appuntiti, il pelo arruffato. Mamma, mamma! gridava l'orsacchiotto. Allora la luce si accendeva e la sua bambina mamma era là ad abbracciarlo e l'orsacchiotto si sentiva rassicurato. Ma poi la luce si spegneva di nuovo e di nuovo tornava il buio. Questo ogni notte finché finché non venne la luna. La luna spiò dalla finestra con uno dei suoi raggi e vide che l'orsacchiotto aveva paura. Ti darò un paio dei miei occhiali, disse. Così potrai guardare com'è il buio veramente? L'orsacchiotto si dimise e guardò. Con gli occhiali della luna la notte era tutta un'altra cosa. Il buio era quieto e pieno di cose belle. La sua bambina mamma dormiva tranquilla nel letto e dormivano anche i giocattoli della stanza. Ogni cosa era al suo posto, ogni cosa era serena. Fuori gli uccellini riposavano nei loro nidi e gli animali nelle loro tane. Solo due gatti dal tetto guardavano la luna. Se la notte scura scura ti riempie di paura, se anche un piccolo rumore ti procura il batticuore, pensa solo a cose belle, pensa a un cielo con le stelle. Grazie a tutti. Grazie a tutti.